ho fatto questo video proprio per aiutare chi si è ritrovato nella stessa situazione ossia a vedere questo messaggio di decline by issuer crypto e postepay sostanzialmente il messaggio è decline by issuer che appare su crypto.com nel momento in cui si va ad associare una carta a postepay perché ho fatto questo video? perché come avrei potuto immaginare se vai a provare a chiamare al servizio clienti della postepay passi 5 minuti a parlare con un robot per poi riuscire a farti passare a un operatore quindi qual è la criticità? la postepay funziona in questo modo quando postepay o postepay evolution? ecco premessa perché io ho una evolution quando ci si ritrova in una situazione simile generalmente viene inviata nel momento di acquisto quindi in cui uno va ad associare la carta viene inviato un messaggino, una notifica sostanzialmente all'interno dell'app quindi vi apparirà sul cellulare nel menu a tendino una notifica voi ci dovete cliccare sopra e autorizzare l'operazione con il vostro pin o con l'impronta digitale successivamente, visto che comunque questa è una transazione che proviene dall'estero vi verrà inviato un sms dove viene detto di vuoi fare questa transazione? rispondi sì per autorizzarla dovete rispondere a quell'sms premendo sì se volete autorizzarla però la transazione va poi rieffettuata nuovamente entro 10 minuti la premessa che mi ha fatto l'operatrice è che l'sms può arrivare anche entro 15 ore dal momento in cui si attiva il tutto e si hanno quindi queste 15 ore di tempo per fare l'operazione a me personalmente non è arrivato l'sms quindi cosa fare? in questi casi le soluzioni sono diverse si può fare direttamente il bonifico se avete una vostra app evolution andate sull'app nell'apposita sezione vi appare l'iban fate il bonifico e il bonifico insomma mettete tutti i dati e vi arriva nel giro di 2-3 giorni lavorativi non fate quello istantaneo a parer mio perché comunque determinati operatori hanno delle difficoltà da accettarli o comunque sembra una roba un po' non lo so fate quello standard per stare più tranquilli in alternativa semplicemente cambiate carta quindi se non arriva il famoso sms questa è la soluzione più immediata spero che questo video ti abbia aiutato un minimo e fammi sapere se hai dei dubbi anche commentando qui sotto il nostro sito è l' Hambaccio un'altra cosa che abbia a vipaggiato questo video ti abbia a vipaggiato Grazie.